Team Teramo Ambiente Per la municipalizzata il futuro sarà ancora pubblico e privato Presto il bando per socio e servizi Via Longo a Teramo sarà il raggruppamento temporaneo di professionisti macola di Venezia A realizzare il progetto di housing sociale Chiesa di San Domenico tra i fedeli il giorno dopo Il Vescovo ha promesso che riaprirà entro Pasqua Ex OVS scaduti termini per le proposte se la giocano due gruppi teramani Università, gli studenti dell'UDU denunciano L'Ateneo è senza manutenzione Giulianova, i balneatori preoccupati L'erosione sta mangiando la spiaggia E per lo sport pallamano Nei playoff di Serie A1 esordio a Salerno per il Teramo Che in casa giocherà di domenica Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Teleponte Apriamo parlando di TEAM, la Teramo Ambiente Procedere per piccoli passi E questo l'indirizzo che emerge dal Consiglio Comunale di Teramo Sull'assetto societario da individuare per la Teramo Ambiente Si procederà sulla strada del mantenimento di un assetto misto, pubblico e privato E ribandire dunque una gara a doppio oggetto Sia per la scelta del partner che per l'affidamento dei servizi Questo in attesa di perseguire l'obiettivo di rendere la municipalizzata Teramana Un'azienda a totale capitale pubblico Ma per far questo bisogna attendere i passaggi normativi Che in Regione porteranno alla definizione dell'Agir L'ente d'ambito unico Intanto Brucchi ha sottolineato che l'azienda ha i conti in regola E che proprio per questo non è nella lista nera delle partecipate con la Brodo Come ribadito anche dalla Procura di Catanzaro Che fa le veci del partner privato Vediamo il servizio Sindaco, oggi il Consiglio Comunale sulla Team Intanto lei ha posto il primo accento sul futuro Non sono all'ordine del giorno conti, numeri, problemi sul piano economico finanziario Guardiamo al futuro e che indirizzo vogliamo dare alla Team Ci sono due delibere di Consiglio Comunale Una delibere di Giunta Che dice che si deve andare avanti con la gara a doppio oggetto E' chiaro che adesso c'è stato un momento di riflessione Relativo al fatto che c'è l'opportunità di far diventare la Team totalmente pubblica Il discorso è questo fondamentalmente Mi sembra che l'andamento del Consiglio Comunale Sia diciamo verso una società pubblico privata Che tra l'altro come ho detto anche nella mia relazione Sicuramente è la stata più semplice, più facile, più veloce E poi magari aspettare Quello che accadrà in base alla nuova legge regionale Alla legge del governo e soprattutto Della comunità europea Che prevede un ambito regionale unico Che prevede un subambito nella provincia di Teramo E che prevede un gestore unico Gestore unico significa che tutte le società Tutte quelle enti che in questo momento gestiscono i rifiuti Al momento in cui ci sarà il gestore unico decadranno E questo è un problema serio Un problema serio che va visto in prospettiva Un problema serio che va visto in futuro Secondo aspetto i posti di lavoro Dobbiamo tutelare i posti di lavoro Questo è l'aspetto fondamentale I posti di lavoro del Ruzzo I posti di lavoro della Team I posti di lavoro della ditta Frat Arcangeli Che abbiamo già tutelato I posti di lavoro oggi è sacro Ecco Sindaco a proposito di strada da delineare Se volessimo intanto riassumere un primo orientamento Qual è? Quello di prendere tempo e valutare intanto un percorso misto pubblico privato E poi gettare le basi per il pubblico? Guardi l'orientamento è quello di fare una gara a doppio oggetto E poi nell'emore dell'evoluzione della legge regionale Quindi del gestore unico Vedere quello che succede Perché in questa situazione non si trova soltanto il Comune di Teramo Si trovano anche tanti altri comuni Abbiamo già un capitolato d'appalto Abbiamo iniziato a lavorare già sul bando Già da qualche tempo Bisogna chiudere un po' questi aspetti Fare ovviamente la gara E poi aspettare il socio che verrà a sostituire la procura Perché voglio ricordare a tutti e anche a me stesso Che il nostro socio in questo momento è la procura di Catanzaro E questo da un certo punto di vista è una garanzia Restiamo in argomento Dal contributo dei consiglieri comunali sono emerse indicazioni diverse Domenico Narcisi della lista civica del sindaco È intervenuto a favore di un assetto pubblico Ma con il presupposto di attivarsi prima Per dotazione di impianti adeguati In modo da poter ridurre la tariffa Per Raimondo Micheli Non c'è la capacità economica Per acquistare le quote del privato Insiste sull'assetto misto Per il Movimento 5 Stelle Non c'erano i presupposti per ragionare In assenza di chiarezza Sui numeri del piano economico e finanziario Ma un approfondimento di disappunto È stato fornito anche dal gruppo consigliare Della civica di riferimento a Mauro Di Dalmazio Che per prima ha sollevato il suo dissenso Su alcuni passaggi della gestione della Team Per il capogruppo Angelo Puglia Il valore della Team deve essere attribuito dal mercato Per il Partito Democratico Al di là dell'assetto societario Ci sono due priorità che il capogruppo Gian Guido D'Alberto Indica E cioè l'emergenza del personale da riassorbire E l'abbattimento dei costi del servizio Schizzato da 8 a 12 milioni di euro Sentiamo Gian Guido D'Alberto Qual è la posizione del PD Emersa nell'ambito del Consiglio Comunale Soprattutto lei ha posto l'accento su alcune criticità In particolare i costi del servizio E l'immediata scadenza dei contratti Che pongono a rischio i lavoratori Sì, la relazione iniziale del sindaco È stata una relazione vuota In termini di problemi e di soluzioni È soprattutto una questione posta male Perché il problema non è oggi Team pubblica e Team privata Ma i problemi sono due essenzialmente Che noi dobbiamo affrontare Il primo è la situazione emergenziale Verso la quale noi ci stiamo volgendo Perché il termine di scadenza Dell'affidamento del servizio di igiene urbana È il 30 aprile 2015 Poi in ultimo Il problema del costo del servizio Perché la necessità di fare Appunto di aprirsi al mercato È l'unica soluzione che può garantire Ad oggi Nelle mole dell'attuazione della legge regionale Con la quale poi si parlerà Dell'ambito unico provinciale Noi su quello ovviamente siamo perfettamente d'accordo Sulla logica del gestore unico Ma in questa fase La gara è l'unica soluzione Che ti consenta di ridurre il costo del servizio La riduzione del costo del servizio Che è assolutamente necessaria Nel nostro comune Perché nel 2009 Prima che iniziasse il porta a porta Il costo del servizio è di circa 8 milioni di euro Oggi nonostante una raccolta differenziata Che va oltre il 60% Il costo del servizio è di 12 milioni di euro Per scelte irresponsabili Scelerate E per una gestione scriteriata Da parte del sindaco Brucchi E della sua maggioranza In sintesi Si deve invertire il rapporto che c'è Tra l'amministrazione e la società partecipata La società partecipata non può essere considerata Una società al servizio della politica Consigliere Puglia La lista civica già in passato Ha mosso delle perplessità forti sulla TEAM Che hanno portato addirittura Alle dimissioni del Presidente Oggi voi come posizione indicate Quella di fare un bando Anche perché la stima delle quote Della società della TEAM Non sono passate per il mercato Ma noi il nostro obiettivo principale È quello di ridurre la tariffa a carico Del cittadino e dell'impresa E quindi ci sembra che questa stima Si debba confrontare con il mercato Come farla confrontare con il mercato Facendo un bando pubblico Anche perché non mi sembra Che ci sia una norma Che vieti l'eventuale partecipazione di un ente Oggi a mezzogiorno è scaduto il termine Per la presentazione delle proposte Di affitto dei locali dell'ex OVS Sotto al Cineteatro Comunale a Teramo Sono pervenute due proposte Contrariamente a quanto si è repotizzato Pare proprio che entrambi i gruppi Che hanno fatto richiesta di rilevare gli spazi ex OVS Siano Teramani Uno sarebbe l'Iperstore 2 L'altro è riconducibile a Tiziano Lattanzi Imprenditore noto per il marchio commerciale Sotto sopra E c'è una nota del Comune di Teramo Sugli ex locali dell'OVS In relazione alla nota con la quale L'Associazione dei Confesercenti di Teramo Esprime perplessità circa la legittimità Delle metrature concesse dal Comune Per l'esercizio commerciale negli ex locali OVS Si precisa che la questione è stata affrontata Al momento della stesura del bando Nello stesso preliminarmente Si legge nella nota del Comune È specificato che la Commissione valuta L'ammissibilità delle offerte pervenute Rispetto alla pianificazione urbanistica e commerciale Tant'è che sono ammesse proposte Anche premiate nell'offerta tecnica Provenienti da associazioni e consorsi Che potrebbero dividersi le superfici Inoltre però dice ancora Nella nota del Comune di Teramo L'articolo 15,6 del PUC Disciplina l'utilizzo dei contenitori esistenti Aventi già specifica destinazione commerciale Dall'origine Per i quali è solo necessaria La conferma della destinazione d'uso Purché non vi sia alcun aumento Della superficie di vendita Rispetto a quelle precedentemente autorizzate La scadenza per la presentazione delle offerte Era fissata appunto per oggi Le proposte pervenute Conferma il Comune di Teramo sono state due La commissione tecnica come previsto nel bando Si riunirà mercoledì prossimo 18 febbraio Per la valutazione delle proposte Restiamo a Teramo Sarà il raggruppamento temporaneo Di professionisti Capeggiato dall'architetto Giorgio Macola Di Venezia A realizzare il progetto di housing sociale Di Via Longo Oggi il Fondo Immobiliare HS Italia Centrale Promosso dalle fondazioni bancarie Di Ascoli e Teramo Ha comunicato l'esito del concorso di idee Per la progettazione delle residenze Di housing sociale di Via Longo 19 le proposte pervenute Il servizio Mentre a Teramo proprio in questi giorni Ci si interroga sulle reali volumetrie Poste come base di progetto Per il recupero delle case di Via Longo Secondo il consigliere comunale di opposizione Paolo Accardelli E l'architetto Andrea Cavarocchi Assolutamente gonfiate rispetto alla realtà dei fatti E dunque tali Da annullare tutta la procedura Ecco che il Fondo Housing Sociale Italia Centrale Che gestisce l'intervento in Via Longo Comunica ai vincitori del concorso di idee Per la progettazione delle residenze di housing sociale La giuria ha proceduto alla votazione finale Per la definizione della graduatoria E all'unanimità ha decretato vincitore Il progetto presentato Dal raggruppamento temporaneo Di professionisti Macola Il raggruppamento è composto dall'architetto Giorgio Macola di Venezia Da Ricci Spaini Architetti Associati di Roma e Chieti Dal professor Mosè Ricci dell'Università degli Studi di Trento e Università di Genova Dall'ingegnere Gabriele Di Felice Antonio di Teramo Dall'ingegnere Fabrizio Capriotti di Teramo E dall'architetto Claudia Di Girolamo di Teramo La proposta progettuale sarà sottoposta immediatamente Al vaglio e all'approvazione degli organi competenti Del comune di Teramo Adesso, ha detto Domenico Bilotta, Managing Director di Investire Immobiliare SGR Che gestisce il fondo HS Italia Centrale La sfida sarà realizzare il progetto nei tempi più brevi possibili Dopo le necessarie valutazioni e autorizzazioni da parte del comune di Teramo Nel comunicato non si fa nessun riferimento alle questioni inerenti I premi di cubatura eccessivi E in contrasto con il PRG di Teramo Denunciati dall'architetto Cavarocchi e dalla Cardelli Cambiamo argomento I fedeli si dicono dispiaciuti della chiusura al culto della chiesa di San Domenico In corso Porta Romana a Teramo Ricordano però che i frati che sono appena andati via Erano meno aggreganti dei dominicani che storicamente hanno gestito Sia il convento che la chiesa di San Domenico E sembra che il vescovo abbia assicurato la riapertura della chiesa per Pasqua All'indomani della chiusura del convento e della chiesa di San Domenico C'è amarezza da parte degli abitanti di Corso Porta Romana e non solo Cosa ha provato quando le hanno detto che chiudevano ancora una volta la chiesa? Sapevo che avevo sentito già da settembre che ci sarebbe stato questo cambiamento Però è stata una cosa improvvisa così adesso Lei ci diceva che molti fedeli non sono più venuti in chiesa A San Domenico da quando se ne sono andati i frati domenicani? Sì, erano loro che tenevano sulla chiesa Con il loro modo di parlare, di celebrare I frati francescani che li hanno sostituiti Sono stati poco aggreganti secondo lei? Sì, sì, non sono riusciti ad esprimere il meglio Quando avete saputo che chiudevano chiese e conventi? Dunque, io l'ho saputa proprio domenica No, sabato sera Nel venire a messa ci ha affiancato padre Bernardino Ci ha detto, sapete, noi chiudiamo mercoledì E a mio marito rimaniamo un po' così Dico, come chiude? Eh sì, dice, dobbiamo chiudere giorno 11 Con l'ultima messa dalle 7 del mattino e poi andiamo via Ecco, noi sappiamo solo questo Non ve l'aspettavate? No Beh, da un po' di tempo comunque qualcosa c'era Però, insomma, così dalla sera alla mattina no Cosa significa per questo quartiere, per voi fedeli, avere la chiesa chiusa? Tantissimo Anche perché architettonicamente la chiesa chiusa È veramente un dispiacere enorme Insomma, la chiesa si rovinerà anche Beh, siamo un po' tutti dispiaciuti perché eravamo oramai le solite persone Ci si conosceva A noi andava proprio bene questa chiesa Beh, rappresenta tutto perché anche la chiesa, così come si può vedere È il simbolo di Porta Romana Molte volte è rappresentata Porta Romana proprio attraverso la chiesa San Domenico È stata una chiesa molto importante Sono stati domenicani che tutti sappiamo, insomma, sono la cultura pura della chiesa Certo, quello che è successo negli ultimi anni è rattrista un po' Perché non si può tenere un contenitore così vuoto e così importante spiritualmente parlando La Corale Santa Sicilia ha continuato fino all'ultimo e continuerà E adesso come farà la Corale se la chiesa è chiusa? Beh, il vescovo ha assicurato che per Pasqua riuscirà a sostituire, a riaprire la chiesa E ha pensato il giudice a separare la madre dalla figlia violenta e rinnegata Con la decisione di vietare a N.M. le sue iniziali di 54 anni Di avvicinarsi a una distanza inferiore a un chilometro e di comunicare con l'anziana genitrice Il provvedimento giudiziario si è reso necessario per porre fine alle vessazioni con cui la donna aveva ridotto a un inferno La vita della madre 75enne con cui condivideva la casa abellante Minacce, botte, pressioni psicologiche e le impediva perfino di usare il telefono E non si sa bene per quale motivo di fondo La convivenza tra madre e figlia era diventata talmente difficile Che a un certo punto la donna, confidandosi con una vicina, era riuscita a chiedere l'intervento dei carabinieri Che hanno potuto constatare lo stato delle cose al punto da far chiedere al magistrato Il provvedimento di inibizione nei confronti della figlia, 54enne Per lei è scattata una contestuale denuncia per maltrattamenti in famiglia e violenza privata Su cui dovrà pronunciarsi adesso anche la magistratura Una nuova truffa terrorizza edicole e tabacchi della provincia di Teramo E non solo, l'ultima in ordine di tempo è accaduta ad una edicolante di Sant'Egidio alla Vibrata Nel servizio scopriamo come vengono messe in atto queste truffe Una nuova truffa spaventa le edicole e i tabacchi Che fanno parte dei circuiti Sisal della provincia di Teramo e non solo L'ultima in ordine di tempo ha come protagonista una donna Proprietaria di un'edicola di Sant'Egidio alla Vibrata Che si è vista sfilare 3.000 euro da falsi operatori Sisal Il gioco è crudele e spietato I truffatori telefonano al malcapitato Si qualificano come rappresentanti Sisal chiedendo di ricaricare carte di credito prepagate Per attivare o disattivare servizi tramite il terminale Durante la telefonata i finti operatori fanno precisi riferimenti ad informazioni riservate Relativa alla rivendita contattata Inducendo il povero commerciante a fidarsi nonostante la richiesta anomala di versamento Nello specifico l'edicolante di Sant'Egidio raggiunta il numero fisso della sua attività Si è sentita dire da parte di un sedicente funzionario dell'ufficio contabilità Sisal Che per errore ha pagato due volte la cifra dovuta nella settimana precedente In poche parole la donna ha diritto ad un rimborso La cosa è insospettita e non poco la commerciante Ma i dubbi sono svaniti poco dopo Quando il truffatore ha snocciolato perfettamente tutte le cifre contabili Degli accrediti e degli addebiti effettuati dalla signora negli ultimi mesi A dimostrazione del fatto che il finto operatore Sisal conosceva benissimo i dati sensibili ed economici dell'attività Fornendo perfino una descrizione dettagliata del terminale utilizzato nell'edicola L'edicolante quindi ha chiesto come fare per ricevere il denaro Il truffatore dopo averle proposto vari metodi e sapendo che avrebbe scelto la via più veloce Ha guidato la donna nelle operazioni con il terminale ed è qui che si consuma effettivamente la truffa Il sedicente operatore si congeda dicendo che avrebbe avviato la pratica di lì a poco E che avrebbe contattato la donna via sms con un codice da inserire per completare l'operazione Arrivato il codice via messaggio, anche questo un dato sensibile in possesso solo della Sisal Il finto funzionario ha ritelefonato alla commerciante dicendole di digitare per tre volte il codice Completata l'operazione e salutato il falso operatore La malcapitata si è accorta della truffa poco dopo Quando la richiesta di ricaricare una carta poste pay da parte di un cliente è stata rifiutata dallo stesso terminale Scoprendo che il credito giornaliero di 3.000 euro messo a disposizione per ogni attività era già esaurito Le operazioni effettuate con i truffatori le sono costate tre ricariche da 980 euro l'una a favore di ignoti Il credito alle imprese abruzzesi è cresciuto nei primi nove mesi del 2014 ad una media superiore a quella dell'Italia A beneficiarne però è stata la grande industria, artigiani e micro imprese in affanno E quanto emerge dallo studio di CNA Abruzzo il servizio Torna a crescere nella nostra regione il credito alle imprese A livello nazionale è la terza performance Ma a beneficiarne sono solo quelle di dimensioni maggiore In particolare nella provincia di Chieti A documentarlo è lo studio realizzato su dati della Banca d'Italia da Alto Ronci della CNA regionale Tra gennaio e settembre del 2014 Un periodo nel quale pure il risparmio negli sportelli bancari e postali è cresciuto notevolmente In Abruzzo il credito, invertendo la tendenza dei due anni precedenti Ha segnato un incremento di 267 milioni di euro Passando dai 23.671 di fine 2013 Ai 23.938 di fine settembre 2014 Con un aumento percentuale dell'1,13% Valore di gran lunga superiore a quello nazionale Fermo allo 0,28 Per quanto riguarda le medie e grandi imprese sì Mentre per le micro imprese c'è stata una flessione Sul piano territoriale ad assorbire quasi tutto l'incremento destinato al mondo delle imprese È stata la provincia di Chieti con 269 milioni di euro Mentre Teramo e L'Aquila hanno registrato incrementi più modesti Rispettivamente di 68 e 36 milioni di euro La sola pescara ha un segno negativo di 22 milioni E questo perché è accaduto? Questo è accaduto perché il credito si è concentrato soprattutto in provincia di Chieti In particolare le grandi industrie, per esempio i mezzi di trasporto e le industrie alimentari Cultura e turismo accessibili a tutti Evento nazionale a Chieti nei locali del Museo dell'Università D'annunzio organizzato dall'Associazione Diritti Diretti Onlus Il servizio, vediamo L'iniziativa che abbiamo voluto organizzare è stata formata da due giornate Una dove abbiamo incontrato le istituzioni e l'associazione di categoria Dei commercianti, degli imprenditori e di tutte le istituzioni Dove abbiamo fatto capire, o comunque abbiamo cercato di far capire Che l'accessibilità non è soltanto legata al mondo disabile Ma è qualità per tutti e soprattutto un volano economico per il territorio che decide di accoglierla I numeri del turismo accessibile sono davvero importanti? Sì, sono molto importanti Più che altro sono dei numeri di richiesta di turismo Che non viene soddisfatta proprio perché le strutture ricettive Non vengono adeguate alle esigenze reali delle persone Che non sono quel modello standard che viene preso in considerazione Quindi una persona di 25 anni normodotata e comunque con necessità normali Ma in realtà parliamo di persone anziane, famiglie con bambini e con i passeggini I povedenti, persone sorde Ma è quelle che hanno problematiche di mobilità motoria E quanto costa il non fare? Secondo le ricerche dell'Unione Europea Non rispondere a questa richiesta costa 420 miliardi di euro che vengono persi E quindi magari ci sono tante professioni o tante richieste Che soddisfatte porterebbero ricchezza e usciremo tranquillamente dalla crisi economica I mercati internazionali debbono e possono essere aggrediti dalle piccole e medie imprese abruzzesi Bisogna avere conoscenze e assistenza per arrivare magari anche alla City di Londra Come è stato spiegato nel workshop al Michelangelo di Marina di Città Sant'Angelo Sentiamo L'internazionalizzazione è un'opportunità per le piccole e medie imprese Organizzato il workshop dalla PMI Abruzzo Molise In collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Britannica La Banca di Credito Cooperativo di Cappelle sul Tavo E Sony Cattel finalizzato a sostenere lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione delle imprese locali Representanti istituzionali ed esperti di settore hanno informato imprenditori e addetti delle PMI abruzzesi Nell'analisi delle opportunità e delle problematiche societarie ed oganali, fiscali, logistiche, commerciali, assicurative, finanziarie E di regolamento degli scambi internazionali connesse all'avvio e alla gestione di iniziative imprenditoriali In particolare nel mercato londinese Per creare una possibilità agli imprenditori abruzzesi di poter agire anche sul territorio oltre confine L'importante è fare squadra Io credo che l'imprenditore ha proprio questa peculiarità di essere operativo sempre E quindi qualsiasi cambiamento è pronto ad affrontarlo nella maniera più adeguata E adesso parliamo dell'Università di Teramo Problemi strutturali denunciano infatti gli studenti universitari dell'UDU Che hanno immortalato uno dei bagni di giurisprudenza Dal quale è evidente un controsoffitto completamente crollato A causa di infiltrazioni d'acqua e scarsa manutenzione E dicono che la manutenzione manca un po' nella sede dell'Università di Teramo Sentiamo Si è staccato un controsoffitto in un bagno dell'Università in costa di San D'Agostino a Teramo E l'UDU denuncia la mancata manutenzione della struttura Sì, in effetti questo episodio del bagno non è la prima volta che si verifica Si è già verificato nei corridoi in passato Tuttavia il fatto che si sia staccato appunto questo controsoffitto Fa emergere qual è la questione all'interno dell'Università relativa alle strutture Il controsoffitto si è staccato per un'infiltrazione d'acqua? Sì, probabilmente sì Insomma non siamo dei tecnici quindi non ne siamo certi Sicuramente sono caduti dei calcinacci per terra E per fortuna che in quel momento non c'era nessuno sotto Comunque in quel bagno non li ha presi in pieno in testa Insomma sostanzialmente Voi dite che non viene fatta neppure l'ordinaria manutenzione? Sì, perché basta girare per i corridoi o andare in alcune aule o alcuni luoghi dell'Università Per esempio il bar e scoprire che quando piove magari ci sono Cioè piove anche dentro l'Università sostanzialmente Quindi ci sono delle infiltrazioni Ma basta anche guardarsi semplicemente intorno E vedere che non è un episodio insomma isolato Cosa chiedete? Chiediamo che diventi una priorità di questa Università Prima di tutto la sicurezza sia per gli studenti che insomma vivono l'Università Sia anche per il personale perché comunque non è concepibile una situazione insomma del genere Gli interventi che la Regione dovrà mettere in campo per salvare la Biblioteca Delfico di Teramo La Biblioteca Provinciale non sono più rinviabili Lo dice il direttore della Delfico Gigi Ponziani Ribadendo che ad oggi l'unica soluzione è la regionalizzazione dell'importante istituzione culturale Teramana Il servizio Si va verso la soluzione regionale per la Biblioteca Delfico di Teramo Lo annuncia il consigliere regionale del PD Sandro Mariani Tra l'altro questa è la soluzione auspicata da tutti Auspicata sicuramente da chi è addetto ai lavori E non da adesso, da almeno tre anni a questa parte Quindi mi fa molto piacere che il consigliere Mariani Che è anche il capogruppo del partito di maggioranza al Consiglio regionale d'Abruzzo Abbia manifestato questa volontà che sarebbe appunto in capo alla Giunta e al Presidente D'Alfonso Tutto questo non può ovviamente che farci piacere, che gratificarci Ma ahimè purtroppo questa dichiarazione Allo strato attuale rimane ancora una dichiarazione puramente di intenti Perché a fronte di tempi che esigerebbero interventi ad ORAS Noi ancora siamo nella fase appunto dell'auspicio e della ipotesi Ancora tutta quanta concretamente da costruire Secondo lei oggi ci sono i tempi e le modalità solo per la regionalizzazione Oppure c'è margine per adottare soluzioni diverse? I margini non li pongo io, i limiti non li pongo io I limiti sono nelle leggi che si stanno applicando E sono la legge del Rio dell'aprile scorso Che imponeva determinati adempimenti alle regioni italiane Nel senso di definire quali fossero i servizi che dovranno essere ripartiti Fra comuni, altri enti o la regione stessa Cosa che però io insisto nel dire non è stata fatta dalla regione Abruzzo Da un lato e dall'altro la legge di stabilità Quindi gli interventi decisionali che la regione deve assumere Di qui ai prossimi giorni, ad ORAS se mi permetterei di dire Non sono ulteriormente rinviabili I lavori su via Treviso a Giulianova Lido Per un importo complessivo di circa 100.000 euro Sono stati ultimati Ma la riapertura al traffico si avrà tra un paio di giorni Il prossimo 14 febbraio Per dar modo al nuovo manto d'asfalto di consolidarsi A darne notizie il sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro Anche la spiaggia di Giulianova soffre della problematica dell'erosione I balneatori chiedono un intervento tempestivo Affinché il mare non inghiotta parte della spiaggia Facendo diminuire lo spazio per gli ombrelloni Per la prossima stagione estiva Siamo in riva al mare Ma non è l'estate Siamo in pieno inverno Potremmo parlare di un problema Che potrebbe rendere questa spiaggia Che vediamo qui Più appetibile, più larga Più fruibile, più sabbiosa Parliamo con Archimede Forcellese Perché qui c'è un problema di erosione Sì, purtroppo c'è un problema di erosione Che viene da lontano E che, come possiamo notare Ha portato ad una riduzione della consistenza della spiaggia Dell'ampiezza Accanto a questo, purtroppo, c'è anche il trasporto Di materiale ghiaioso Ne vediamo tantissimo ai nostri piedi Dal fiume Nel 2011 c'era stato un evento naturale Che aveva aperto la strada Dalla soluzione di questo problema Ricorderai quel braccio naturale Che si era formato In corrispondenza della foce del fiume E da lì che bisogna ripartire Per risolvere definitivamente In modo strutturale questo problema L'Aranaldi, che è del Capo Orno Lo stabilimento che si affaccia su questa zona In realtà, quanto sarebbe lunga la vostra concessione? Sempre 60 metri La larghezza è minima Sì, ma adesso è 60 metri Da qua fino al mare Tutta ghiaia, come fate? 60 metri fronte mare 60 metri quindi larghezza Invece in profondità? In profondità varia La vediamo adesso Sarà 20 metri Oggi, se noi vuole mettere uno un ombrellone qua Come fa? Assolutamente impossibile De Vincentis, buongiorno Lei ha una concessione poco più a sud Che si chiama? Spinaker Beach Una concessione in profondità? Quanto? In profondità era 60 metri Nel 2011 la natura ha voluto dare Ci fu un alluvione Che fu l'unica cosa positiva Positiva Un alluvione che ha rotto gli argini a nord del fiume E ha prodotto questo pennello Un 60 metri circa Ma tutto 60 metri? All'incirca era questo Quali vantaggi otteneste subito? Ottenemmo la stagione 2012 Capolavoro Un capolavoro Dopo oltre 40 anni Il Comune di Campli risarcisce un debito Per la realizzazione di un parcheggio Finisce così l'attesa di alcuni cittadini camplesi Che dopo 41 anni Si vedono riconoscere e liquidare dal Comune di Campli Un debito risalente addirittura al 1974 L'annuncio arriva dall'assessore al bilancio Federico Agostinelli Che ricostruisce la vicenda risalente all'8 gennaio del 74 Quando appunto iniziarono i primi lavori Per realizzare il parcheggio del cimitero di Campli Ai cittadini camplesi era stata riconosciuta finora solo una parte del debito Adesso l'ultimo consiglio comunale Su impulso della giunta guidata dal sindaco Pietro Quaresimale Insegliata da circa nove mesi Ha definitivamente deliberato il riconoscimento della restante posizione debitoria Con la conseguente liquidazione di oltre 20.000 euro Per salvare la guardia medica a Valle Castellana Il consigliere regionale Giorgio D'Ignazio Ha presentato un'interpellanza all'assessore regionale Alla sanità Silvio Paolucci Sentiamo Il consigliere regionale del nuovo centrodestra Giorgio D'Ignazio Chiede che non venga soppressa la guardia medica di Valle Castellana E al riguardo ha presentato un'interpellanza anche in consiglio regionale All'assessore Palucci Proprio perché la guardia medica di Valle Castellana È fondamentale perché Valle Castellana A differenza di tanti altri territori È un territorio praticamente isolato Molto più vicino ad Ascol rispetto a Teramo E soprattutto ha un sistema viario Praticamente ormai quasi nullo Che subisce sempre intemperie Quindi subisce i danni frane Molte volte restano isolati E poi diciamo è lontanissimo dalla città di Teramo Dove dovrebbero poi arrivare gli utenti E poi è un paese che si sta ormai completamente spopolando Non possiamo togliere anche questo Devo dire che da parte dell'assessore Palucci È stata grande disponibilità Certo, siamo in una coperta corta E quindi Sono diverse le guardie mediche Che verranno soppresse Almeno nelle intenzioni e nelle previsioni della regione Non ci dimentichiamo che comunque la regione Abruzzo È una regione comunque commissariata È che gli atti vengono dal governo E ci danno dei punti di riferimento Oltre i quali non si può andare avanti Ci sono dei piccoli range Che purtroppo a volte vengono Sono già diciamo occupati E noi dobbiamo lottare tutti insieme Affinché a Valle Castellana resti la guardia medica Perché non è possibile che un territorio così importante Che raccoglie diverse frazioni Resti senza guardia medica Lo dobbiamo fare tutti insieme Io ringrazio anche voi per questa intervista Mi date quindi la possibilità di parlare Ma devo dire che ho avuto grande disponibilità Da parte dell'assessore Paolucci In tal senso Si avvicina la ricorrenza di San Valentino Sentiamo le proposte di Civitella del Tronto Per la festa degli innamorati Il servizio Barbara Adalessio Assessore alla cultura del comune di Civitella Il borgo si trasforma in una meta romantica Sabato per San Valentino Decisamente in un etenerario molto romantico E abbiamo proprio voluto puntare sul borgo Il borgo deve essere il protagonista della serata di San Valentino E sappiamo che Civitella è nota sempre per la sua fortezza Che si presta decisamente per eventi e manifestazioni Invece con San Valentino abbiamo voluto Che il fulcro fosse appunto il borgo Con la sua storia e con il suo patrimonio artistico Quali sono le iniziative che avete allestito Per celebrare questa ricorrenza? Allora, l'associazione Orgoglio Civitellese Si è fatta promotrice appunto di questa serata Che prevede una visita guidata appunto del borgo E comunque esce un po' al di fuori Di quelli che sono i canoni tradizionali Della visita turistica Quindi si parlerà della storia d'amore Tra Pisacane E la più bella di Civitella, Gaetanella E a conclusione un po' di tutto il percorso Comunque come dicevo anche artistico e storico del borgo Ci sarà questo aperitivo Organizzato da più ristoratori del territorio E a seguire ogni copia potrà scegliere comunque Il ristorante di Fiducia che più preferisce Per concludere appunto questa serata romantica Lume di Candela A proposito di San Valentino La Fidas di Teramo invita tutti i fidanzati In occasione proprio del San Valentino A farsi, a fare un regalo a chi ha bisogno Mostrando un segno d'affetto Come la donazione del sangue L'associazione donatore di Teramo Infatti suggerisce alle coppie di giovani Ma anche meno giovani Di donare il sangue La donazione ricorda la Fida Se possibile per chiunque abbia superato i 18 anni Pesi più di 50 kg E sia in ottima salute A Teramo nel periodo dal 14 febbraio Fino alla fine del mese Tra l'altro c'è un regalo Che aspetta chi si recherà a donare Al centro trasfusionale dell'ospedale di Teramo E adesso è arrivato il momento della rubrica Di Giancarlo Falconi Carta canta, vediamo Tutti noi ce la prendiamo con la storia Ma io dico che la colpa è nostra È evidente che la gente poco seguia Quando parla di sinistra-destra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ehi, ehi Destra-sinistra 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 Basta 86 siamo puntati di carta canta, torniamo nella Repubblica Indipendente di Scapriano stiamo sempre in attesa di sapere se quella struttura nella piazza Eloterio dell'Oterio è una struttura abusiva o meno, perché dopo l'articolo sui due punti la struttura in legno con base in cemento è sparita, non si sa che fine abbia fatto e quindi ci riferiamo all'inchiesta aperta dalla Polizia Municipale di Teramo e a quella famosa fettuccia che ancora circonda la base in cemento una risposta sarebbe anche cortese andiamo avanti, la famosa diatriba tra il Comitato di Scapriano e la Proloco di Scapriano in mezzo c'è l'ex edificio della scuola di Scapriano 2011, il Comitato di Scapriano scrive che è disposto a continuare dato che è dal 98 che gestisce quei locali rispettando le condizioni previste dalla stessa GM e la concessione relativa occupazione dell'intero immobile necessario per i bisogni comuni e per il perseguimento del bene comune di tutta la comunità di Scapriano 2012, il Comune con una delibera di giunta destina anche alcuni locali dell'ex scuola di Scapriano alla Proloco questo non va bene completamente al Comitato iniziano diverse lettere, c'è una sorta di diatriba, una lotta interna nella comunità di Scapriano fino a quando nel 2013 c'è un contratto stipulato col Comitato di stabilire che sarà riservata per il detto Comitato la possibilità di utilizzo dei vani, riunioni, svago, servizi e cucina anche perché, voglio ricordare, è il Comitato che paga l'energia elettrica famosa Voltura e volevo, alla fine di questa diatriba noi vogliamo rispondere anche alla Proloco di Scapriano che adesso non esiste più pubblicammo in un carta canta dopo Capodanno l'oggetto chiusura associazione Proloco San Martino di Scapriano con la presente come delegato verbale dell'assemblea straordinaria dei soci si dichiara lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione in oggetto citata cioè la Proloco di San Martino 18-12-2014 chiedemo anche chi avesse organizzato il Capodanno nella ex scuola e a quale titolo ancora non c'è stata nessun tipo di risposta volevo dire agli ex componenti della Proloco di Scapriano che noi le carte le troviamo sempre a terra in questo caso erano sotto la macchina dell'assessore Rudy Di Stefano quindi vediamo un po' andiamo avanti ultima domandina le chiavi dell'ex Proloco sono state restituite al comune di Teramo? carta canta previsioni in Abruzzo al mattino poco nuvoloso sulle aree collinarie e montane sereno sulle aree litorane nel pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia lungo la dorsale appenninica sereno sulle zone orientali nevicate al di sopra dei 1250 metri tra sera e notte variabile con deboli rovesci di pioggia sulle zone interne e sui rilievi sereno sulle zone marittime quota neve sui 1250 metri temperature stazionarie massime comprese tra 8 e 11 gradi nelle conche aculane marsicane tra 15 e 18 gradi sulle pianure adriatiche venti deboli sud orientali mari calmi in provincia di Teramo al mattino poco nuvoloso su gran parte del territorio nel pomeriggio variabile con deboli rovesci di neve lungo la dorsale appenninica sereno sui settori orientali nevicate al di sopra dei 1250 metri tra sera e notte variabile con deboli rovesci di pioggia sulle zone interne e sui rilievi sereno sulle zone marittime quota neve sui 1250 metri temperature stazionarie massime e comprese tra 12 e 15 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 13 e 16 gradi sulle coste venti deboli sud orientali mari calmi ed eccoci alla pagina sportiva apriamo con il campionato Lega Pro con il Teramo sono tre i dubbi al momento per il tecnico del Teramo Vivalini in vista del match casalingo con il Sant'Arcangelo si giocherà a Teramo sabato prossimo alle ore 17 tre giocatori dunque in dubbio al momento Bucchi alle prese con l'influenza proprio oggi e Lulli non ancora a posto il terzo è Fiore ieri pomeriggio l'unico che si è allenato a parte alle prese ancora con alcuni problemi di natura fisica proprio Fiore però a breve potrebbe rinnovare il suo contratto con il Teramo la dirigenza biancorossa infatti ha preso contatti con il procuratore del giocatore l'avvocato della penna per prolungare l'accordo che è in scadenza a giugno e adesso scopriamo come si sono comportate nell'ultimo weekend le tre formazioni giovanili del Teramo Calcio il servizio due pareggi e una sconfitta costituiscono il bilancio dell'ultimo weekend delle giovanili biancorosse male la Berretti che nel derby casalingo contro l'Aquila è caduta 2 a 1 il risultato finale in favore degli Aquilani i rosso-blu dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo hanno subito la rete del momentaneo pari al decimo della ripresa con Tini il match è scivolato via nell'equilibrio equilibrio che è stato spezzato al venticinquesimo grazie ad un calcio di punizione che ha permesso agli Aquilani di riportarsi in avanti il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto in virtù delle numerose occasioni create dai biancorossi che però non sono stati capaci di concretizzare decisamente meglio è andata agli allievi che sono riusciti a strappare un punto al Pescara nonostante lo svantaggio iniziale arrivato al sesto del primo tempo i ragazzi di mister Olivieri hanno reagito trovando il meritato gol del definitivo 1 a 1 con Rinaldi al 39esimo infine per i giovanissimi nazionali è arrivato un pari che ha lasciato l'amaro in bocca i piccoli diavoli dopo aver subito lo svantaggio con un gol in sospetto fuorigioco hanno rimesso tutto in discussione grazie al rigore trasformato da fagioli salvo poi tornare nuovamente sotto nel secondo tempo a causa di un contropiede letale della squadra romana la reazione del team di Pierleoni non è mancata e con Passiatore è arrivata la rete del 2 a 2 finale nel prossimo turno la Berretti riposerà gli allievi ospiteranno la corazzata Versa Normanna e i giovanissimi se la vedranno con il Latina intanto ci sono buone notizie per l'intero settore giovanile la prossima settimana infatti dovrebbero partire i lavori per l'adeguamento degli spogliatoi dell'acqua viva dove verrà realizzata anche una piccola tribuna per permettere la visione degli incontri ad appassionati e addetti ai lavori e adesso il basket con una notizia singolare il pentatermo è costretto dal freddo a giocare a Mosciano Sant'Angelo la società del pentabasket termo infatti comunica che a causa degli annosi problemi relativi alle temperature polari all'interno del Palas Capriano la partita valevole per la diciannovesima giornata del campionato contro l'NBC Campobasso sarà disputata presso il Palazzetto dello Sport di Mosciano Sant'Angelo il giorno e l'orario rimangono immutati domenica prossima 15 febbraio alle 18.15 quindi non al Palas Capriano dove fa troppo freddo ma al Palazzetto dello Sport di Mosciano e adesso la palla a mano in Serie 1 femminile sono stati diramati i calendari dei play-off la Globo Allianz Biohap Tateramo riduce dal quarto posto in Coppa Italia farà il suo esordio il 21 febbraio sul campo della bestia nera il Salerno in vista della seconda fase la società ha varato una novità nelle partite casalinghe la squadra non giocherà di sabato bensì di domenica pomeriggio ascoltiamo il general manager Canzio Globo Allianz Biohap Tateramo riduce della Coppa Italia siete arrivati al quarto posto soddisfatti da questo risultato? La soddisfazione se si vede in modo oggettivo sì perché noi siamo praticamente una società nata da un anno e mezzo la squadra è nata con una rifondazione il secondo anno abbiamo rifondato di nuovo quindi diciamo dal punto di vista oggettivo noi siamo soddisfatti è chiaro che poi quando uno gioca il risultato ti pesa un po' però obiettivamente diciamo che oggi forse altre squadre come Salerno in particolar modo con Versano hanno qualcosa in più di noi che non è da un punto di vista tecnico forse da un punto di vista di cattiveria di cattiveria agonistica esperienza noi lo sapevamo tant'è che quando noi abbiamo preso qualche giocatrice di esperienza qualcuno sorrideva in realtà noi sapevamo quali potevano essere i problemi di questa squadra adesso bisogna pensare ai playoff appuntamento per il quale avete studiato delle novità soprattutto per quanto riguarda gli orari di inizio delle gare sì noi stiamo praticamente abbiamo deciso di giocare di domenica in modo da poter fare in modo che più appassionati la palla a mano possano partecipare con la loro presenza a questi incontri questo è un modo per cercare di dare la possibilità in gare così importanti di avere il più pubblico possibile prima però di pensare agli impegni casalinghi bisogna pensare alla prima trasferta sul campo dello Iomi Salerno squadra che tra l'altro vi ha sconfitto nella semifinale della Coppa Italia che si è giocata recentemente sì diciamo che è un po' la bestia nera il Salerno e quindi anche per la legge dei grandi numeri prima o poi dovremo vincere quindi magari forse è meglio che abbiamo perso in Coppa Italia con la speranza di avere qualche chance in più in campionato ma se noi giochiamo come squadra con umiltà secondo le indicazioni del tecnico secondo quella cattiveria che ripeto noi forse ci manca perché nessuno lo sa ma noi abbiamo una squadra giovanissima credo che a livello tecnico abbiamo dimostrato di non avere nulla da invidiare a Salerno chiaramente però adesso si gioca più con la testa che col cuore con la tecnica nella giornata di ieri è venuta a mancare la signora Italia di Filippo madre del tecnico Settimio Massotti il presidente Giuseppe Candelori il general manager Roberto Canzio i dirigenti e le giocatrici della Globo Allianz Bioab parta Teramo partecipano con commozione al grave lutto e si stringono con affetto attorno al loro allenatore a cui vanno anche le condoglianze di Teleponte Siamo in conclusione vi ricordo solo le due trasmissioni del giovedì quelle di stasera in onda su Teleponte alle 21 Inside dentro il personaggio la trasmissione condotta dal nostro direttore Roberto Almonti a seguire alle 21.45 circa Controvento curata e condotta da Dorotea Mazzetta questa sera Controvento indaga il rapporto tra i ragazzi e l'UEB e l'ensidia dei social network Bene, davvero tutto grazie per l'attenzione non dimenticate domattina l'appuntamento puntuale in diretta alle 7 con Prima di Tutto grazie e buona serata arrivederci Grazie